io romano cugino di camper job venuto della romania per fare per voi piccolo pezzo che io non può violare copyright voi capisce me io romano scusate capelli belli bellissimi io adesso mia moglie è andata a chiedere soldi io adesso fare per voi allenamento perché io ho trovato finalmente lavoro questo mio primo strumento di lavoro guarda bene osserva bene io cugino camper job mandato via adesso camper job va bene voi adesso vede primo pezzo di strumento secondo pezzo di strumento io adesso mette mio video così qualcuno se vuole mi piace se vuole non mi piace fate quello che va bene mamma che schifo va piaciuto tutti bello allora bene dammi un euro da ti prego dammi un euro ti prego io io povero io ho bisogno di un euro tu dammi me un euro io vive io vive tu da me un euro di un euro ti prego da che